Ora vediamo l'esperimento eseguito con due liquidi identici, l'acqua nel tuba U e l'acqua anche nel cilindro, questa qua dentro è acqua colorata, comunque la densità dei due liquidi è identica, allora immergendo progressivamente il bicchierino all'interno del cilindro d'acqua vedremo formarsi un dislivello che è esattamente della stessa quantità rispetto, uguale alla profondità alla quale immergiamo il bicchierino. Vediamo quindi il video, il bicchierino viene immerso e si crea quel livello, la profondità H maiuscolo è sempre uguale al dislivello delta H perché i due liquidi hanno la stessa densità, questa è la profondità massima e il dislivello massimo, adesso il bicchierino viene sollevato nuovamente e nel momento in cui il bicchierino esce fuori dall'acqua il dislivello si annulla.